Buon pomeriggio dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Partiamo parlando dei temi della giustizia con l'apertura dell'anno giudiziario. In regione la cerimonia a Trieste, capoluogo del bistretto della Corte d'Appello, tra le proteste degli avvocati, le proposte dei magistrati e i picchetti radicali contro il sovraffollamento delle carceri. Il servizio di Antonio Di Bartolomeo. Molte sedi vuote all'interno dell'aula della Corte d'Assisto d'Appello quest'anno. Anche a Trieste hanno disertato l'appuntamento gli avvocati come segno di protesta contro il disegno di legge sulle liberalizzazioni. Così Roberto Gambel Benussi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, letto il suo intervento, si è svestito della sua toga e ha lasciato l'aula. La relazione d'apertura del presidente della Corte d'Appello, Mario Trampus, già anticipata ieri la stampa, ha puntato sull'efficienza del sistema giudiziario regione, l'unica che nel 2010 è riuscita a ridurre i carichi processuali sia in sede penale sia civile. La Corte appoggia il progetto del governo sul taglio dei costosi uffici dei giudici di pace e delle sezioni distaccate, ma chiede un ripensamento sulla chiusura del Tribunale di Tolmezzo. Sullo sfondo rimangono tutti i nodi risolti del sistema giudiziario italiano, l'eccessiva lunghezza dei processi, l'alto numero di prescrizioni, oltre 150.000 all'anno e il sovraffollamento delle carceri anche in regione. Per questo un gruppo di militanti radicali ha protestato dinanzi al Tribunale di Trieste per chiedere una riforma che parta dall'amnistia per ridurre l'enorme retrato giudiziario. Ha preso la parola all'inaugurazione anche il deputato radicale Rita Bernardini che nel pomeriggio visiterà il carcere del Coroneo. Non c'è legalità laddove ci sono milioni e milioni, più di dieci, di procedimenti penali civili pendenti e laddove il sistema carcerario, che è l'anello più debole del sistema giustizia, vede condizioni di totale degrado e di violazione costante dei diritti umani.